Ragazzi di terza media e famiglie che a breve saranno chiamati a scegliere l'indirizzo di studi per gli anni a venire, da oggi hanno un valido strumento per fare le proprie considerazioni. Si tratta dell'edizione 2024 di Eduscopio, la ricerca annuale promossa da Fondazione Agnelli sulle scuole superiori italiane e sui risultati da loro raccolti durante l'ultimo anno scolastico. Il portale permette di effettuare una ricerca degli istituti in un raggio tra 10 e 30 chilometri dalla città prescelta in base all'indirizzo. In questa speciale classifica gli istituti lombardi registrano i migliori risultati e tra questi si riconferma il liceo scientifico Nervi Ferrari di Morbegno dove i diplomati in scienze applicate sono in testa alla classifica regionale. Un ottimo risultato che si aggiunge a quello di trovarsi tra le prime 10 migliori scuole italiane seppure non nella top 5 e quindi giù da quel primo gradino del podio nazionale sul quale ormai aveva praticamente preso la residenza. Ma già prevalere in Lombardia è un successo, commenta Elisa Gusmeroli, dirigente scolastica del Nervi Ferrari. Vuol dire che stiamo lavorando bene, anche se tengo a dire che non operiamo con l'obiettivo di essere in cima alle classifiche, anche se è chiaro che fa piacere essere riconosciuti come un istituto valido. Continuiamo ad andare avanti con questo metodo, cercando sempre di migliorare. Direi che la serietà e l'attenzione anche al lato umano sono due nostre caratteristiche importanti, ma la nostra risorsa migliore sono i ragazzi, lavoriamo per il loro bene.